buongiorno e bentornati sul mio canale in questo video vedremo altre domande di cultura generale per la preparazione al concorso INPS i due principali partiti politici del regno unito sono la risposta da dare il partito lavorista e il partito conservatore i fiamminghi appartengono allo stato la risposta da dare del belgio i franchi erano un popolo la risposta da dare germanico i gulachi russi erano la risposta da dare la classe di condadini agiati che poteva anche assumere mano d'opera salariata i laghi di frana sono casati da frane che con il loro sbarramento imbediscono il fluire del corso d'acqua quale tra i seguenti laghi e un lago di frana la risposta da dare lago di alecche i magiari sono il principale gruppo etnico e un lago di frana la risposta da dare il lago di alecche i magiari sono il principale gruppo etnico la risposta da dare dell'ungheria i membri del consiglio dell'unione europea sono la risposta da dare i ministri dei governi di ciascun paese dei due competenti per la materia in discussione i montenegrini appartengono la risposta da dare è alla jugoslavia i nas sono la risposta da dare è un reparto dell'arma dei carabinieri i nonni di michela francesco e bruno decidono di regalare i nipoti 782 euro per la promozione in promozione alla media scolastica calcolare quando riceverà ogni nipote sapendo che michela è stata promossa con la media del 6 francesco con la media dell'otto e bruno con quella del 9 allora la risposta da dare è michela riceverà euro 204 francesco euro 272 bruno euro 306 i paesi membri dell'onu avendo diritto di veto sono la risposta da dare stati uniti d'america federazione russa cina gran bretagna e francia i patti lateranensi tra lo stato italiano e vaticano furono siglati del la risposta da dare 1929 i romani consideravano giove il re dei dei equivalente di quale dio greco la risposta da dare zeus i tre stabilimenti per la produzione della ghisa in alto forno in italia sono situati a trieste la risposta da dare piombino e taranto ignio sedimentario e metamorfico sono tre tipologie di risposta da dare roccia il bonus cultura destinato ai 18 anni e del valore di 500 euro è promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal ministro dei beni e delle attività culturali del turismo questo contributo è stato pensato per i ragazzi nati nel 1998 ma è stato esteso a gennaio 2018 anche i nati negli anni 2000-2001 il bonus la risposta da dare può essere utilizzato per l'acquisto di libri ingressi a musei aree archeologiche miglietti per il cinema teatri mostri concerti fieri parchi naturali ed eventi e dal 2018 anche per l'acquisto di musica registrata e per la frequentazione di corsi di musica di teatro di lingua straniera il dei vulgari eloquenzia la risposta da dare fu scritto in latino poiché l'opera era una appassionata difesa proprio di fronte ai dotti del tempo che del latino erano stati sostenitori del sole nuovo rappresentato dalla lingua volgare il De Camerone di Boccaccio è la risposta da dare una raccolta di novelle il manifesto del futurismo dello scrittore Filippo Tommaso Marinetti si può collocare la risposta da dare è agli inizi del ventesimo secolo il Metello è un romanzo di la risposta da dare è Vasco Pratolini il Tempo Malatestiano a Rimini, Palazzo Ruccellai a Firenze la faccia della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze sono solo alcune delle opere progettate da la risposta da dare è Leon Battista Alberti il primo gennaio 2016 la presidenza di turno dell'Unione Europea è stata assunta dal Belgio la risposta esatta il primo maggio 2015 prende il via a Milano quale importante manifestazione è la risposta da dare Expo il primo settembre 1939 Adolf Hitler diede l'ordine di aggredire quale nazione dando inizio di fatto alla seconda guerra mondiale la risposta da dare Polonia il 10 giugno 1940 entra in guerra anche l'Italia Mussolini riteneva che fosse giunto il momento di realizzare i suoi obiettivi massimi di politica estera la risposta da dare è la conquista di Nizza, della Corsica, della Tunisia, di Malta ed estensione della sfera dell'influenza italiana nella penisola barcanica e in Africa incluso l'Egitto il 10 maggio del 2015 a Milano muore Domenico Maurantonio studente padovano in città scolastica quali sono le cause della morte? la risposta da dare è precipita dal quinto piano dell'hotel presso cui alloggiava il 12 dicembre 1969 si verifica a Milano un grave attentato con il quale si dà inizio a quella che verrà definita strategia dell'attenzione si tratta, la risposta da dare è dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura il 12 giugno 1942 il colonnello tedesco Klaus von Stavusberg con un atto di incredibile temerietà riuscì a collocare un ordigno esplosivo nella famosa Tana del Lupo di Rastelburg dove Adolf Hitler lo convocò per avere informazioni su certi nuovi reparti militari l'attentato venne eseguito alla perfezione ma la bomba lascia quasi miracolosamente illese il Führer l'enunciato proposto è la risposta da dare è falso l'attentato alla vita di Adolf Hitler fu fatto il 20 luglio 1944 questo video termina qui per vedere altre domande di cultura generale e in seguito tutti gli altri argomenti della prova preselettiva per il concorso IMS iscrivetevi al canale e attivate la campanella a Grazie a tutti.